Luca Parmitano è tornato sulla Terra. Dopo sei mesi in orbita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, l'astronauta di Paternò ridiventa terrestre e lo fa con il sorriso e la giovialità che lo hanno accompagnato per tutta la durata della missione Volare, la prima di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana. Eppure non è tutto semplice, anzi passare dalle fluttuazioni in assenza di gravità a una camminata a piedi a terra è un passaggio complesso. Lo racconta lui stesso in videoconferenza da Houston, dove è volato subito dopo l'atterraggio in Kazakhstan a bordo della Soyuz. Adesso cammino come se avessi un altro me stesso sulle spalle, spiega per far capire ai cronisti la sensazione di avere una consapevolezza tutta nuova del suo corpo. La riabilitazione per abituarsi a vivere in un ambiente diverso dallo spazio è cominciata subito, così come gli studi sul suo fisico. Dopo l'impatto della Soyuz sulla steppa, l'astronauta è stato portato subito in tenda per i primi prelievi, a cui ne hanno fatto seguito altri in aeroporto, e nella notte del ritorno a terra ha fatto anche un test su un simulatore di volo ed è stato sottoposto a una biopsia muscolare. Nello spazio l'allenamento è stato rigoroso ed ha aiutato Luca a non subire uno shock troppo forte al rientro. Tuttavia in orbita il cervello si disabitua a sollecitare alcune parti del corpo che vanno rieducate. Un esempio è quello dei muscoli che controllano l'equilibrio, che sono molto piccoli e per questo non possono essere allenati. Quella della riabilitazione è una fase molto impegnativa e durerà sei mesi, quanto il periodo di permanenza sulla stazione spaziale. Per raccontare il turbine del rientro, Parmitano prende in prestito le parole del collega Paolo Nespoli, che descrisse quei momenti come uno scontro frontale, come se una 500 andasse a sbattere contro un tir, mentre l'apertura del paracadute della Soyuz era come stare sulle montagne russe, fino al contatto via radio con gli elicotteri e al sospiro di sollievo. La giornata era di sole, tanta gente aspettava il ritorno dell'equipaggio e la Soyuz è stata perfetta, spiega Parmitano, che racconta dell'odore della terra abbagnata che gli ha ricordato profumi e sapori che in orbita non esistono. Durante la sua missione, Parmitano è diventato un personaggio pubblico seguitissimo e molto amato grazie al suo blog e alla connevisione dei suoi scatti dalla cupola via Twitter. Confessa che gli piacerebbe continuare a condividere il suo privilegio e che la terra, vista da lontano, lo ha avvicinato a tutti, oltre a sollecitargli qualche riflessione. L'armonia che ispira il nostro pianeta la vorrebbe rivedere anche nei comportamenti umani, sempre in un'ottica di crescita e miglioramento e a questo proposito lancia un messaggio ai ragazzi, invitandoli a dedicarsi con passione ai loro studi, l'unica chiave del futuro. Guardando al mondo che verrà, Parmitano invita ad investire nella tecnologia, perché il progresso è una chiave per uscire dalla crisi. Il momento di crisi che il mondo sta attraversando, una crisi globale, passerà. Io credo che proprio adesso è il momento invece più importante per comprendere che investire nella tecnologia, investire nel nostro futuro è forse uno dei modi migliori per uscire da questa crisi. La stazione spaziale è un esempio straordinario di come nazioni diverse, agenzie spaziali diverse riescono a cooperare bene, a fare benissimo un lavoro straordinario che è quello della esplorazione spaziale. Quindi noi astronauti siamo sicuri, siamo convinti, siamo determinati a far sì che l'esplorazione spaziale possa continuare, continuerà e andrà sempre avanti. Ma intanto, cosa c'è nel futuro di Parmitano? Dopo la riabilitazione ci penseranno ESA, ASI ed Aeronautica. Io non mi preoccupo. Ascoltiamo allora qual è l'auspicio del presidente dell'ASI Enrico Saggese. Presidente, la missione di Luca è stata eccezionale sotto vari punti di vista, ma adesso lei cosa si augura per il suo futuro? Per il futuro di Luca? Ma diciamo che Luca, dicevo, per noi è importante avere tanti ambasciatori dello spazio, tante persone che essendo state nello spazio, avendo provato questa avventura, possano in qualche modo portare questa ricchezza nel loro lavoro. Io preferirei avere tanti astronauti che abbiano volato una volta e che tornando nel loro posto di lavoro possano dire qual è l'importanza del volo umano, qual è l'importanza dell'esplorazione. Perché dobbiamo arrivare a una reale comprensione di tutta la popolazione italiana, di tutti gli ambienti e capire che i soldi che spendiamo, che sono i soldi dei cittadini italiani, sono spesi bene con un vero utilizzo. Quindi non vorrei creare una classe di astronauti divisi dal resto, così come avviene in America. In America ci sono ormai credo 500 astronauti e molti di loro occupano posizioni importanti, sono senatori, sono deputati, l'amministratore della NASA è un ex astronauta. Quindi è importante avere gli astronauti diffusi nel vario ambiente. Certo noi non avremo le possibilità che hanno gli americani come numero di astronauti, però nel nostro piccolo ne possiamo avere un numero significativo. Quindi la mia speranza per lui è che lui rientrando in Italia, magari rientrando all'area militare, facendo carriera, possa arrivare ai massimi livelli della sua carriera, ricordando sempre se è stato nello spazio e spiegando a tutti quanto è bello da stare lì.